Musica Dimmi come, l'energia di Alexia Come fai a tornare qui senza abusare Dimmi come fai per niente è facile vivere così Ti dovrei adiare come potrei Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore Tu non sai cos'è rispetto se non senti dolore Sei tu Chi ami quando vuoi Che ci vengono lo fai di un po' Non si fa così E non pensi che aspetto più Non mi controllo più Mi affanni mica di tu Adesso così c'è qualcosa che ho da dire Puoi forse ne senti nel guai Io lo vedrei Dimmi, dimmi che cosa devo imparare Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore Ah no E dimmi, dimmi, dimmi amore Tu non sai cos'è rispetto se non senti dolore Dimmi che, che mi sei Sei tu E tu vieni quando vuoi Nel mio letto e poi Fatto Ma ti sali su Mi incantimi e butti giù No Io non ti voglio qui Ma non posso perderti E non mi chiederei di smettere di urlare Ti ammazzerei ma poi non so Quando non ci sei Se sei vero c'è più sole Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore Ah no Tu non sai cos'è rispetto se non senti dolore Dimmi, 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 che cosa devo imparare Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore Ah no Mi bebi cosa tu puoi decidere Tu non sai cos'è rispetto se non senti dolore Dimmi, 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 che cosa devo imparare Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore Invece di sentire il loro giudizio, io senterei il giudizio di... ...Alexia! Buonasera, con calma! Eccomi! Ecco qua! Ciao a tutti! A tale e quale... ...Alexia! Allora, ti sei rivista in quel Sanremo meraviglioso? Secondo posto, vero? Sì, sì, in secondo posto. Brava! Un'energia pazzesca! Le l'avete fatta tiratissima, madonna, poverina! Cioè, già un pezzo tosto! In più te l'hanno accelerata, poi io ero dietro, quindi mi hanno detto... ...devi correre più veloce che puoi! Con questo tacchetto, eh? Con questo tacchetto! Quindi ti puoi immaginare! E poi devo dire una cosa... ...Apprezzo molto il fatto che lei sia alta quasi quanto me! E tutte le volte delle stange pazzesche! Dovevamo togliere mezzo centimetro... No, ok, perfetto! No, brava, molto, molto brava! Molto brava! Grazie, grazie! Bene, bene, allora... Qualcuno ha qualcosa da aggiungere? Dopo... Ci vuole il... Occhio! Maso, forse volevi dire qualcosa... E poi dico dopo di che squadra... Ma dai! Sì, io lo so! Perché questi sono dettagli che non bisogna rivelare, Marco! No, questi si dicono invece questi dettagli, soprattutto questi... Ma al di là di questo, volevo farvi notare che il mio... Sosia, diciamo... Si comporta anche nello stesso modo di come mi comporto io! Nel senso, notavo prima, incrociavo le braccia... Mettevo la mano in tasca... Lui metteva... Metteva sugli occhiali... Metteva sugli occhiali... Metteva sugli occhiali... Farai un disco per festeggiare... La primavera esce! Farai doppie date a caso o trovate Masini o trovate il Vitale qua! Poi ci mettiamo d'accordo! Di mettere d'accordo! Alex, grazie di essere stata con noi! Poi accompagnate...